Oggi in Consiglio Comunale c'è stata l'occasione per dare una notizia che non è esagerato a definire storica per la città di Pordenone. Dopo una lunga trattativa, grazie agli interventi del Ministro Fitto e del Ministro Ciriani, grazie al Presidente Fedriga, agli assessori regionali Zilli e Rosolene, al contributo fondamentale, agli assessori Parigi e Ceolin, siamo riusciti ad ottenere il finanziamento integrale per acquistare 5.000 metri quadrati nell'area del Bronx da destinare ad aree universitarie, 11 milioni che consentiranno di acquistare gli immobili e anche di riqualificarli proprio per ospitare servizi universitari. Significa dormitori, significano mense, significano aule e laboratori per aumentare il numero degli studenti universitari in città. Significa da un lato dare un nuovo destino ad un'area di cui si discute da decenni e che stava degradando e dall'altro lato aumentare l'offerta formativa di qualità in città. Io sono davvero orgoglioso di aver portato a casa questo risultato perché riprendere a vita, ripeto, un brano di città che era stato dimenticato. È stato un lavoro faticoso, gli attori che hanno consentito di portare a casa questo traguardo sono stati tanti. Adesso, nelle prossime settimane, inizieranno gli incontri tecnici con l'assessore Rosolene per definire come suddividere gli spazi all'interno e il tutto si chiuderà entro un biennio. Devo dire che, insomma, tra i tanti progetti di riqualificazione di questa città che sono stati già finiti, che sono avviati o quelli che partiranno, questo è sicuramente quello di cui vado più orgoglioso. Io credo che sia proprio stata scritta una pagina di storia per la nostra città. L'avevamo scritto nelle linee di mandato e tante volte questo obiettivo sembrava a portata di mano, ma non era così. Proprio qui è intervenuta la caparbietà, la tenacia del nostro sindaco, di questa amministrazione, di portare a casa a tutti i costi un risultato per la nostra città. L'università in centro non è solo il simbolo di come investiamo nei nostri giovani talenti, ma è l'apertura a tutto un percorso di rigenerazione attraverso nuove opportunità per il commercio e per la frequentazione di quegli spazi. Un risultato portato a casa appunto con tenacia, un risultato concreto. Tra due anni avremo le chiavi in mano e non si chiamerà più Bronx. Si può legittimamente parlare di una svolta storica per la città e una svolta storica per l'università, perché gli studenti universitari arrivano in centro e abbiamo nuovi corsi che verranno attivati da qui a due anni, sia da parte dell'Università di Udine che da parte dell'Università di Trieste. Ma anche una svolta per la città, perché è almeno da quando sono nato che si parla di dare un destino, un'identità all'area del cosiddetto Bronx. Oggi finalmente lo facciamo, quindi appunto credo che sia veramente una svolta storica. Io sono anche assessore alle politiche giovanili e credo che sia questo il modo migliore di fare politiche giovanili e di fare di Pordenone veramente una città a misura di giovani. Gli spazi di via Persecco rimangono, ma appunto l'università si amplia e arriva in centro proprio perché le richieste delle iscrizioni aumentano e ora non potevano essere accolte proprio per mancanza di spazi. Oggi risolviamo questo nodo.